L'iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Occasione Blavich! Non si fermano più, ancora a segno! E con un vantaggio di tre gol la partita è quasi chiusa. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico! Semplicemente fantastico! Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione!